E al mondo che la pace è ristabilita! No matter how long it may take us! Il Stato, il destino dell'Etiopia, oggi, 9 maggio, 14esimo anno dell'era fascista! Raffare il Mare Nostro, che ci davano questi temi spaventosi sul Mare Nostro, eccetera, che dovevamo sempre finire, lasciando alla fine del tema qualche riga, il Duce ha sempre ragione. Mussolini fece una cosa importante, mise gli altoparlanti in tutte le classi di tutte le scuole d'Italia, altoparlanti, in tutte le classi. Un giorno chiedo, ma maestra, ma perché è importante oggi il Mediterraneo, che ai tempi di Roma conosceva soltanto il Mediterraneo, adesso c'è l'Oceano Atlantico, il Pacifico, l'Indiano, perché è importante? Chi ti ha messo in bocca queste parole? Ma nessuno, è successo un pandemonio, due giorni in interrogatorio, in direzione. La forza di orientamento, di propaganda del fascismo è stata notevole da questo punto di vista. Direi che la comunicazione è stata una delle cose, dico una brutta parola, intelligenti del fascismo. Terzo giorno, ecco adesso, riprendiamo tranquilli a studiare, ragazzi, perché il Pestalozza si è convinto che non deve farsi mettere le parole in bocca. Allora io mi sono alzato e ho detto, ma maestra, gliel'ho detto che nessuno mi ha messo le parole in bocca, che ho pensato io. E allora io mi ricordo, adesso, 87 anni, come se fossi lì, in terza elementare, la maestra Voltolina, non ho mai dimenticato il nome, che dalla cattedra mi fa. Tu sei qua per imparare, non per pensare. Il regime curava molto le scuole perché voleva una gioventù sana, preparata, anche perché per mandarli a morire, bisogna che siano sani e sportivi, non puoi mandarci a morire i gobbi, gli storpi, in guerra non servono. Tanta ginnastica, c'era il sabato fascista. Il sabato, c'era il sabato fascista, si deve mettersi, i giovani fino a 10-12 anni, Balilla, poi avanguardisti e poi gli universitari, erano gli universitari fascisti. Tutto obbligato, intendiamoci bene. Questo, durante gli anni 30, erano le esercitazioni in gran parte ginnici. Quando poi è cominciata ad arrivare l'area della guerra, si è cominciato a fare delle esercitazioni paramilitari. Cioè si usavano i boschetti, anche i bambini, i ragazzi, boschettini, diciamo, finti, ma per già imparare l'arte della guerra. Allora, la storia della cultura fascista vuol dire che noi eravamo immersi, gli insegnanti dovevano giurare per poter insegnare fedeltà al fascismo. E quindi eravamo immersi proprio in una clima fascista. Nella scuola eravamo imbevuti di fascismo. Noi siamo i parenti di Matteotti, i miei figli sono due, uno frequenta l'alimentare, uno il ginnasio. Non indosseranno mai la divisa fascista e non faranno mai il saluto fascista. Nell'album di famiglia, diciamo così, l'immaginetta di Matteotti, che era un deputato socialista molto importante, che è stato ammazzato nel 24, va bene. Lei cosa ha fatto? Ha preso questa immaginetta, l'ha baciata, l'ha messa nella stufa, l'ha bruciata, per paura di una perquisizione a casa. No, il regime fascista ci lasciava vivere sotto controllo, sotto stretto controllo, però contando sulla paura della società italiana noi vivevamo isolati. Un giorno è stato bloccato da una ronda fascista che l'ha picchiato a sangue. Io allora ero nel 34, nel marzo mi ricordo, e ho visto quest'uomo che ha attraversato la strada, è riuscito a attraversare la strada, è arrivato a casa che era tutto grondante di sangue, va bene, e dopo due o tre giorni è morto. Mi ricordo molto bene questa cosa, perché mi ricordi le cose che hanno un contenuto emotivo forte, non le scordi mai, non le scordi più. Mio nonno è stato accoltellato dai fascisti in galleria, proprio perché, ma negli anni venti, proprio perché era stato uno dei firmatari dell'ordine, diciamo così, della richiesta di destituzione del Mussolini. La nefandezza che era fatta uccidere una persona perché ha delle idee diverse, ma è una cosa che non è possibile tollerare, insomma, si era fatto sentire anche dagli altri che stavano zitti, però prima che tornassero a casa un suo amico le ha detto Non andare a casa perché stasera vengono a massacrarti. E mio papà ha detto, ma perché mai? Che vengono? Ci penso io. Cinque giorni dopo che il fascismo era dato il potere è stato licenziato, licenziato con questa formula dicendo scarso rendimento, che però aveva significato per motivi politici, ma loro non mettevano i motivi politici, tantomeno nel 22 in quel momento c'erano ancora gli altri partiti e tutto quanto. Nel frattempo il regime si era irrobustito, per cui era difficile trovare lavoro perché nessuno aveva il coraggio di esporsi. Quindi quando veniva Mussolini a Milano, c'erano manifestazioni grosse dei fascisti, i fascisti mettevano in prigione i fascisti notti per precauzione, insomma, no? E quando sono nato io il mio padre era in galera, erano quei giorni in cui era in galera e per questo mi ha chiamato libero. Questi signori venivano portati a San Vittore, stavano a San Vittore come sovversivi, come pericolosi, diciamo così, agitatori per il tempo in cui Benito Mussolini stava in città. In una di queste trasferte nel carcere di San Vittore, e questa è un'altra pratica delle fucilazioni simulate, per cui mettevano al muro questi antifascisti, e poi con il plotone di esecuzione a mio nonno è successo. Quando ritornò a casa, lui non se n'era accorto, aveva tutti i capelli bianchi. La parola d'ordine è una sola! Vinceremo! E vinceremo! Voi non, e mi auguro che mai, dovrete provare che cosa è la guerra. La guerra è qualcosa che ti è niente, è qualcosa che solo pensate, ti fa ancora tremare, è una cosa terribile. Lo spartiacque in Italia è la guerra, perché in un primo momento tutti di dire viva la guerra, viva la guerra, tutti in guerra, le piazze piene, no? Osannare. Poi, cosa è successo? Molti sono andati in guerra, si pensava che in poco tempo la guerra finisse. Sì, figlio alla mia, ne abbiamo passati elicotteri cruda, fame, fumo, freddo e fastidio. Tra la fame, la miseria, perché noi come contadini qualche cosa in carico mangiavamo, ma questo Mussolini si è assiduato un po', perché nel 1940, quando ha incominciato la guerra, ha chiesto la fede alle mogli e gli orecchini, in ovo, e hanno dovuto consegnare gli orecchini e le fede. Il pane bianco era una cosa divina per noi. La borsa nera, il pane bianco, sigarette contingentate, zucchero contingentato, tutto che oggi uno a raccontarle queste cose non ci crede. Eravamo i più poveri del paese, nevicava e all'inverno non avevamo le scarpe, dovevamo stare in casa, andavamo sempre scalzi. Il Mussolini è il contadino, ingrassa il maiale e poi lo dà un colpo in testa, lo ammazza. A Milano, per esempio, non c'erano più gatti, non c'erano, che venivano mangiati tutti. Signor Colonello, tenente innocenzi, accade una cosa incredibile, i tedeschi si sono alleati con gli americani. No, allora tutto è finito, signor Colonello. Ma non potete avvertire i tedeschi che stanno continuando a sparare? Nel mestizio del 1943 tutti si siamo trovati nel paese, si dice così, nella piazza, nella piazzetta che c'era. Tra persone di qualsiasi colore, di qualsiasi ideologia politica che fosse, si abbracciavamo, si cantava, si imbalava, era musica, insomma era una festa. Come se proprio la guerra fosse finita. Comunque Radio Scarpa dice che, la barba d'olio dice che la guerra continua. La guerra continua, cioè noi eravamo sempre alleati della Germania, il famoso patto di ferro con la Germania. Dopo l'8 settembre l'Italia rimane sostanzialmente tagliata in due, cioè il sud Italia tra virgolette libero con tutto l'esercito italiano allo sbando e il nord Italia sotto, il centro e il nord Italia sotto l'influenza diretta dei nazisti. Quindi la situazione cambia radicalmente anche per gli antifascisti. L'ermetizio, anche lì, quando è arrivata la notizia che l'Italia ha fatto l'ermetizio con gli inglesi e gli americani, quindi sembrava che finisse. Invece col cavolo, è cominciato tutto. Che cosa ha fatto? Gli inglesi e gli americani hanno scatenato i bombardamenti sul nord. E butti giù le bombe. I bombardamenti, i bombardamenti vuol dire lutti, vuol dire lutti. Si bombardano anche le città, oltre che le fabbriche. Milano venne in gran parte distrutta, Scala, Duomo, Palazzo Reale, case, fabbriche, cioè vuol dire noi quindi abbiamo vissuto l'inferno nell'agosto del 43. Milano è stata fondamentalmente bombardata dai bombardamenti a Teppeto, dei cosiddetti alleati che in realtà non lo erano. Il giorno di notte c'era un preavviso e poi suonava l'allarme. In quel momento bisognava lasciare tutto e scappare. Noi ci si rifugiavano in cantina. Si andava nei rifugi di notte, si viveva nei rifugi. Mentre bombardavano, veniva la città, veniva bombardata. Tutta questa situazione, anche da un punto di vista sanitario, perché la gente mangiando poco, lavorando al freddo, vivendo al freddo, essendoci poco latte, la gente si ammana anche. La gente dimagrisce a vista d'occhio. Ma voi capite che tutto questo demoralizzò la gente. Insomma, ormai la gente a questo punto era distrutto tra i figli, i mariti, la guerra, la mangiare che non si mangiava. Cioè, bisogna capire questo momento, cosa voleva dire nelle famiglie. Che cosa è successo? Il 20 ottobre del 1944, un bombardamento aereo americano ha distrutto la scuola proprio nel punto in cui c'erano tutti i bambini che scendevano per andare nel rifugio. 200 e più bambini sono morti sotto le macerie di questa scuola. Certi ragazzi si sono salvati perché li hanno fatti uscire. Poi suonando il cessato allarme, la segretaria ci ha bloccati sulla porta. Io ero proprio davanti alla porta per uscire e improvvisamente mi sono svegliato dopo 5 giorni all'ospedale perché avevano bombardato. Il mio ricordo è, cosa potrei dire, è nitido e terribile nello stesso tempo perché praticamente io rivedo tutta la giornata, rivedo tutto. Andate a casa, quelli che stanno vicini se ne vanno a casa. E io come un fulmine sono uscita dalla scuola poi terrorizzati senza capire bene che cosa stesse succedendo. Ho visto che c'erano un gruppo di ragazzi, di maschi, grandi, di quinta, tra i quali c'era anche mio fratello Massimo che guardavano per aria e dicevano guarda, guarda che era una giornata stupenda di un sole limpido, di ottobre proprio. Guarda, guarda che buttano giù dei bigliettini, propaganda così, no? I maschi a un certo punto si sono fermati sul ballattoio della scuola e dal finestrone guardavano, certi guardavano, dicevano che venivano giù i palloncini. Si vedeva come una sospensione arancione nell'aria che ti dava l'idea di un altro mondo e noi bambini siamo rimasti tutti colpiti perché camminavamo in mezzo a tutte queste macerie perché per terra c'erano vetri, anche nella mia casa sono caduti vetri, tutto quanto. Mi ricordo un po' così, normalmente, la mia maestra che si chiamava Aurora e le altre, sia lei sia le altre maestre, sono morte tutte. Io ho dovuto tornare di nuovo sfollata in Brianza perché le mamme lì della casa, compresa la mamma del mio cuginetto che l'hanno trovato lui fra l'altro giorno dopo, poverino, praticamente hanno detto alla mia mamma Tina, manda via la Lella perché noi te l'ammassiamo perché per la minima scematta noi bambini chiamavamo la mamma e loro sentire a chiamare mamma davano un po' i numeri a un certo punto e certi erano diventate come matte. Mentre i cuginetti sono rimasti il più grande, è rimasto aspettare la più piccola che faceva la prima e i bambini di prima sono morti tutti. La guerra colpisce i bambini perché sono quelli più indifesi, purtroppo c'è questa cultura al giorno d'oggi perché non spiegano, non fanno vedere ciò che è successo. Qua bisognerebbe portare le scuole e spiegare, fare vedere cosa c'è sotto qua, cosa hanno sofferto, chi ha passato quella guerra lì. Perché la guerra è tremenda, fame, privazioni, tutto c'è. E' inutile che stiamo a cercare chi è stato, chi perché, come. Sì, certamente è giusto fare delle ricerche, però il problema è che la guerra è sempre la guerra, quindi il male è quello. Cose veramente molto brutte, signora. E questo rafforzava in noi un certo desiderio così di riscatto giovanile, un po' avventurato, non avventuroso, avventurato in cose più grandi di noi. Detto questo, io ho cominciato molto presto, dopo l'8 settembre, a decidere che dovevo fare il partigiano. Mi ci vedi indossare la divisa di Salò con l'educazione avuta da mia madre. I nomi di battaglia c'erano? Sono stata la prima a scegliere, ho chiesto Fiamma. Dimmi un nome, come ti vuoi chiamare, un nome di battaglia. Io l'ho sentito sulla panca, io gli ho detto panca, e mi ho detto panca. Loro ha scritto panca e pancia, e ha convincato a chiamarmi pancia, e pancia è stato, e il nome di battaglia è rimasto pancia. Io sono sempre stato un ammiratore dell'Iliade. Ajace era il mio personaggio. Angelo, perché? Perché ce l'ho ancora davanti agli occhi. Sul tram che portava da, verso Colle, quasi vicino a Corsico. Suona l'allarme. Allora si ferma. E uno si affaccia e dice, Angioletto, Angioletto, hai visto che si era in gata? Abbiamo preso. Io lo ricordo come se avessi davanti agli occhi. La mattina del 9 settembre, io ho questo biglietto dentro alle calze, perché se mi prendono, prima di non me lo trovano addosso. Vestita ancora estiva, perché era a settembre, al mare faceva caldo, si facevano ancora i bagni, partì per la montagna, e trovai un mondo completamente diverso. Fu un trauma che probabilmente mi cambiò da così a così, nel giro di meno di un'ora. Non ero la stessa ragazza. Alle sei di sera ero già completamente diversa. Ho incontrato un amico di mio padre, che forse mi aspettava al marco, il quale mi disse, vuoi fare qualche cosa per la resistenza? E io ho preso così sul momento, e gli disse, senza altro, per bere, era naturale. Arrivo a questo celeste, che abita a 200 metri da casa nostra. Mi dice, ma tu quanti anni hai? Le dico 16. Eh, gli dice, senti, gli dice, io ho bisogno di un compagno, di uno che mi faccia copia, gli dice, io sono scritto in GALP. e gli dice, te la senti? E lui dice, senti, io non so neanche cosa c'è, ho messo in GALP. Tu mi devi spiegare un po', perché se me la sento, e mi spiega, diciamo, quello che fa, i GALP, la mansione che hanno. 28 novembre, alla 12, 12 e mezza della mattina, io e un compagno della mia brigata, veniamo arrestati, in piazza della Scala, da uomini, la decima marcia. Ci interrogano, per farsi dire delle cose che non diciamo, ci massacrono di botte, io particolarmente in faccia, un po' finito di massacrarci, ci hanno messo giù, in piazza, appoggiati a un muro, con le mani sulla testa, in questa maniera, per cui io sono diventato un esperto di circolazione sanguigna, perché l'ordine era, ai cinque giovinastri della decima marcia, messi davanti, di fucilarci, si abbassamavano le braccia. Ci portavano le volte delle pistole che dovevamo nascondere, e quello era un mestiere che dovevo fare io. Per procurarsi le armi, venivano giù, sulla via Emilia, fermavano le colonne, magari con delle rivoltelle di legno, magari una rivoltella, speravano un colpo facendo fermare la colonna. avevano un coraggio che non vi dico. Mentre stavo andando in università che già avevo ritirato i foglietti, c'era una signora che mi vede e mi dice Tusa, Tusa e milanese, non andare dritta per questa strada, perché in fondo ci sono le tedesse che stanno facendo un rastrellamento e tutta la gente giovane che vedono la mettono su un camion e la portano via. hanno inventato una specie di partita di calcio amichevole, Inter-Juventus. È interessante questa cosa per attirare i giovani, andarci. E di fatti tanti sono andati, è stato anch'io, e diceva, comunque ci fu questa partita e c'era pieno di pieno, tanti giovani che erano venuti, era gratuito. Finita la partita, fuori dagli ingressi c'erano i camion tedeschi che controllavano i documenti. Tutti quelli che erano sopra i 16 anni li hanno parlati via. Li hanno parlati via a lavorare in Germania, eccetera. Io non avevo ancora 16 anni per cui me la sono calata. I tedeschi mangiavano paura. L'esistenza passiva. Se io uccidevo lui che era uno della Decima Massa, pigliavano 10 prigionieri e li mettevano al muro e li facciavano. A un certo punto si avvicinano due ragazze della Decima Massa in divisa della Decima Massa e alla fascista cominciano a dirci delle cose oscene mentre i loro compagni, i camerati le applaudivano. Ti piacerebbe fare questo e quest'altro? Finché una di queste si eccita, si tira su le sottane e si tira giù le mutande, ho pensato subito a due cose. una ecco qua mapelli la donna è il sesso e basta è una cosa è una cosa di sesso. L'altra cosa che penso è divertente perché ho subito pensato ma guarda ho 16 anni è la prima volta che vedo il sesso femminile e lo vedo mentre mi stanno fucilando. Sono l'unica donna faccio e voglio fare esattamente quello che fanno i compagni gli si anche a questo comandante parla coi compagni digli che non sono una compagna disponibile a niente altro che a dividere la vita quotidiana i combattimenti i rastrellamenti tutto come loro ma per il resto che nessuno si faccia illusione perché io ho un mio amore nel cuore e nella mente per cui nessuno mi interessa. Sergio Casman io sono il fratello migliore c'è una differenza di otto anni tra me e lui. Lui era militare io finì in liceo e in quegli anni mi innamorai di Sergio Casman. Era un personaggio aveva un carisma particolare tutte le ragazze si innamoravano di lui tutte e poi vabbè in quei tempi i rapporti uomo e donna era solamente fatta azione perché mia madre mi diceva sempre le fa innamorare tutte e poi non combina niente. Incrociamo i nostri sguardi e ci innamorammo su uno sguardo Sergio aveva gli occhi verdi come li avevo io non so se è quello che ha calamitato era bellissimo come si vede dalla fotografia era fascinoso. Banfield che poi fu senatore è stato liberato dal mio fratello con questi blitz che faceva a San Vittore. Così è nato questo amore quasi platonico perché all'epoca ragazzi i costumi e gli usi erano completamente diversi. andava vestito a tedesco parlava tedesco andava con altri compagni con carte false che ne so io come faceva ma tu sa che ha fatto questi blitz e quindi l'ha fatto anche con me quindi io se sono qua lo devo a lui in questa occasione. Ci saremmo scambiati dieci baci era amore vero autentico però era limitato da una caterva di cose che erano più robusti di una roccia questi impedimenti. L'8 settembre del 43 Sergio era di istanza a Roma come militare sottotenente dei granatieri e siccome le sue idee politiche erano come le mie si trovò a Porta San Paolo a combattere per la prima volta contro l'occupante tedesco era appassionato di letteratura mio fratello e leggeva Scelei nei bivacchi in attesa dei permessi di trasferimento verso la Svizzera e parli lo fu sicuro di questo uomo grande e grosso che era alto due metri che leggeva Scelei fece un colloquio e lo portò a Milano e li affidò al comando di piazza e fu uno dei suoi collaboratori molto importante ma come tutti i giovani era un po' incosciente perché da solo non faceva non mandava mai gli altri lui era la prima persona e gli appuntamenti andava senza neanche avere un po' di riguardo un po' di precauzione fu restato altre due volte volte due volte lui altamente robusto veloce e forte scappò picchiando quelli che stavano per restare però qui invece l'hanno cerchiato e non poteva sfuggire qua era era un tranello e quindi gli hanno sferato a bruciapelo perché sapevano che sarebbe scappato infatti tentò la fuga e gli sparavano la schiena proprio lì c'era una ballata che non si sentisse sparare e se anche noi volevamo riposarsi un po' non si poteva perché ogni ora di qui di lì di là si sentiva la raffica di mitraglia e se lo facevano per tenersi svegli per non lasciarsi riposare e se non si capisce la miseria di quei contadini non si capisce neanche la loro generosità senza di loro senza la loro protezione la resistenza non sarebbe esistita in nessuna vallata d'Italia lì si mangia una volta al giorno una fetta di polenta fatta di farina di castagna dormire non c'è né coperte né lette non c'è niente abbiamo visto il figlio del padrone legato al cancello così al cancello di fuori era legato tutto massacrato di colpi una cosa che mi ha impressionato moltissimo quando sentivamo alla radio londra questo Mario non studia capivamo sapevamo che stava per arrivare un lancio e organizzare un lancio richiedeva un lavoro e uno sforzo in mane abbiamo visto tutti con i mitra puntati verso di noi che ci 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 stringevano e io mi sono messo a gridare se siete partigiani non sparate se siete fascisti fate quello che volete se siete partigiani non sparate che veniamo a sopportare le armi e sono venuti tutti silenziosi proprio erano 10 o 12 quando hanno visto quest'arma hanno incominciato a buttare per avia questo russo e urrà urrà insomma non sapevano più ci baciavano era stata una cosa si sono accese tutte le luci le luci delle case lì del cortile si sono accese tutte hanno incominciato a festeggiare questo qui e a noi venivano ci davano dei baci grazie 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 i primi lanci furono ridicoli perché ci mandarono giù dei bidoni di carta igienica per gente che non mangiava la carta igienica non serviva i nostri errorismi erano fatti anche di questo andavano andavano all'assalto con le poche armi che avevamo col piede nudo e sopra però per dignità c'era l'altomaia legata con lo spago la carta igienica la carta igienica che non è il kokio e si trova il fatto che si trova in questo caso è una cosa che si trova è una cosa è una di questa producevano le armi che erano la fonte dei loro disgrazi, perché le armi vuol dire comportamenti, vuol dire armi, vuol dire guerra e fuori dalla fabbrica la gente stava male, le donne, i bambini non ce le facevano più. Questa situazione qui ha prodotto il famoso sciopero del marzo 44. Poi c'è degli grandi scioperi nelle fabbriche che bloccavano la produzione e questo metteva in crisi l'organizzazione. L'avevamo fatto ufficialmente perché i tedeschi portavano le vetture in Germania, si portavano via le vetture, lo sciopero, l'80% non erano politici, erano tramvieri, lavoratori che volevano difendere il proprio lavoro perché portavano tutto il materiale rotabile in Germania. Quindi questi sciopri producono anche questo effetto di alimentare, di rimpinguare, non so, così il movimento partigiano. Il mio primo comizio l'ho fatto davanti agli operai di una fabbrica, sulle macerie di una fabbrica, lo dico il più bel comizio della mia vita. Morto dal fascismo vive i partigiani e sono scappato. C'è stato lo sciopero generale a Milano, compreso quello dei mezzi pubblici, che io sottolineo molto significativo perché i tramvieri o i guidatori di autobus non scioperavano in fabbrica, ma stavano ciascuno a casa e non andavano a ritirare il mezzo, il tram, e che vuol dire che avevano una certezza che tutti sarebbero rimasti a casa, come è stato. Ho detto che i città erano bloccati, completamente bloccati. E allora cosa hanno fatto? Vedi? Qualsiasi mezzo è più facile farlo partire un mezzo che fermarlo. Verso le 11 qualche tram guidato dai fascisti in divisa hanno cominciato a circolare e si fermavano salite, circolazione ripresa. Io, ma non soltanto io, ce lo siamo detti tutti noi partigiani, una soddisfazione storica vorrei dire. La gente camminava completamente sorda ai richiami fascisti perché noi sapevamo da partigiani che la popolazione era con noi. Sentivamo in ogni circostanza che diventava pubblica della nostra presenza una solidarietà silenziosa ma evidente perché, io qua mi metto sul versante, lo dico scherzando, di musicista come sono, il suono non è soltanto quando suona. Anche il silenzio è pieno di suono. Mio padre si chiamava Enrico Bracesco, lavorava alla Breda di Sesto San Giovanni, è stato uno degli organizzatori dei primissimi scioperi del marzo del 43. Si parla di centinaia di miliardi di lavoratori, avvenuto nel centro e nel nord Italia in un clima di guerra e sotto una doppia dittatura fascista nazista è considerata un grave atto di sabotaggio. Decidono di arrestare di notte, di notte in casa. Di notte tutti dormono, c'è il coprifuoco, vuol dire che nessuno di notte può circolare dalle dieci di sera alle sede del mattino successivo deve essere tutto spento, tutti devono stare in casa e quindi tutti li beccano. Ma l'arresto fatto in questo modo pone due riflessioni. Primo, chi arresta queste persone? I tedeschi? No, gli italiani, i fascisti. Quindi gli italiani arrestano gli italiani e gli consegnano in mano i tedeschi per organizzare i trasporti per andare in Italia. Seconda considerazione, io caporeparto, io direttore di fabbrica, dato che lo sciopero è organizzato contestinamente, io che non mi do, se non so chi l'ha organizzato, perché non c'erano bene i festini, funzionavano lo scarpa, passaparola, no? Allora qui c'è l'arbitro più assoluto. Questi vengono ad arrestare le persone di notte, quindi gli indirizzi e i turni di lavoro sono forniti dai direttori delle fabbrici. Quando ho visto mio padre mi ha colpito due cose. Uno che si grattava in continuazione, mi ha detto che erano pieni di pulci e di pidocchi, dormivano per terra, erano sulla paglia. passato prima per le carceri di Monza e poi è andato alle carceri di San Vittore. Erano tanti lì. L'altra cosa era che mio padre aveva i capelli bianchi. Io ho una fotografia di mio padre e questa era stata scattata poco prima che fosse arrestato e aveva i capelli neri. Il mio padre aveva 41 anni, era ancora giovane. E quando l'ho visto dopo 15 giorni da quando era stato arrestato aveva i capelli bianchi. e ha raccontato a mia madre, io al momento non avevo capito, poi mia madre me l'ha raccontato in seguito. L'avevano messo al muro e li avevano sparato con una finita fucilazione. Poi subito, di notte, il mattino presto, li mandano a San Vittore. Ma lì stanno un giorno solo, in Cameroni. E poi li mandano a Bergamo, alla caserma, allora chiamato Umberto I. Noi parliamo facilmente oggi di questi spostamenti eccetera. Ma loro nessuno sapevano. Carcere di San Vittore. Ma tanti a sé stanno sperando anche dove fossero i carceri di San Vittore. Queste persone tutte scorti, che si avvicinano, sembravano dei barboni. Ed erano i nostri padri. E queste persone qui cosa fanno i pregamaschi? Vanno nei negozi, tirano lì i loro bollini delle loro tessere annonarie e prendono del pane, biscotti, qualcosa da bere. E poi rientrano fuori e li buttano dentro. Gli danno da mangiare. Gli buttano qualcosa. C'è la solidarietà. Il soldato tedesco ha imbarrato da fuori la porta, un spertellone nel treno. E mio padre si è affacciato al finestrino e aveva in mano un bicchiere di vino bianco. E questo è un ricordo che ci ha scolpito nella mente. È come se lo vedesse adesso. E sorrideva. E in un momento così tragico lo stavano portando via. Lasciava una moglie che non lavorava, una figlia piccola. C'era la guerra. Eravamo lontani da casa. E lui sorridendo ha gridato viva l'Italia. I vagoni sono lì tutti aperti. E allora li cominciano a caricare. E lì avvengono delle scene strazianti, secondo me. Perché i familiari vogliono abbracciarli, vogliono salutare. I tedeschi fascisti li cacciano indietro col calcio del fucile. Gente che cade tra i binari, gente che urla. Di tutto succede. E mia zia, sorella del mio padre che era con mia madre, dice che ha visto un ragazzo in pigiama che ha detto casualmente a mia zia Se vede mia madre arrivare con un vestito, sono io. Guardi il vagone dove sono salito. Va bene, mia zia dice. Chiudono tutto. Poi il vagone, dopo qualche movimento, parte. Quando mia zia mi ha raccontato ha visto l'ultimo vagone che andava verso Brescia è arrivata in stazione una donna traferata con un vestito dicendo ha visto un ragazzo in pigiama. Ed era... Sì, è là che sta andando. Da Fossoli sono andati a Bolzano. Da Bolzano sono andati a Mauthausen con tre giorni di viaggio in questi treni e il lager di Mauthausen dista cinque chilometri dalla stazione ed è su un altipiano. nottetempo dalla stazione in fila dopo questi tre giorni terribili di viaggio a salire su questo altipiano penso che abbia sofferto in un modo inaudito. Mio padre arriva a Mauthausen il 20 marzo viene immatricolato 59 186 perché la davano i numeri. Li hanno spogliati tutti, gli hanno dato il numero, li hanno depilati in tutte le parti del corpo, gli hanno dato con una divisa, a righe, con il triangolo rosso perché politici e compositore. Nessuno è uscito mai vivo da questi posti e soprattutto nel castello di Artheim 30.000 persone sono state eliminate. Il 31 marzo del 1945 Himmler dà ordine a tutti i comandanti dei sottocampi di Mauthausen di far rientrare tutti a Mauthausen con delle marce che poi sono si rivelate tutte marce della morte e perché mio padre era sempre morto in una di queste marce. Piazza Louvet Serva del Titanus Ti, Verta me la manda la pelle morta i gen che passa pa li haverti qua e là alla steccada che s'esterla sotto la cola di manifesta scià le là che riden la che la gente surda la strengigam e la vorissigam e vedo mia madre che ha un giornale in mano e lo mette via cerca di nasconderlo allora io ho detto mamma perché nascondi il giornale? allora lei ha detto perché hanno ucciso 15 persone per tra l'oretto e tra loro c'è anche lo zio di Sergio per ogni tedesco venivano uccisi 10 persone che erano coinvolte in un attentato sia che fossero in prigione sia che fossero processate o no ma poi sono accadute alcune stragi fra le quali quella di Piazza Loreto la quale non era argomentata come rappresaglia non aveva i presupposti della rappresaglia l'ho detto c'era una cinquantina di persone non di più e lì ho visto questa tragica scena c'era questo mucchio con sopra uno che aveva le mani così e la faccia tutta insanguinata la strage è venuta verso le 6 del mattino e sono rimasti lì praticamente fino al pomeriggio in un tratto poi alla fine sull'intervento mi pare del cardinal Schuster che ha detto che dovevano essere portati via insomma perché la città di Milano non poteva più sopportare una strage simile era una giornata caldissima il sangue che si era riversato sul marciapiede dove erano stati uccisi c'erano le mosche che giravano perciò c'era era una visione veramente orribile e tutto questo non era più ammissibile l'ho saputo quando sono lavorato a casa che aveva un po' di Sergio che c'era questo che c'era quell'altro io quando sono stato lì questa cosa mi aveva come dire sconvolto tanto che il mio amico ogni tanto mi tirava la cosa e mi diceva andiamo e io dicevo no aspettiamo ancora questi erano come ripeto erano già a San Vittore al carcere di Milanese già da diversi mesi come mio padre mio padre è stato arrestato perché c'è stata una delazione hanno detto che lui era uno degli organizzatori degli scioperi all'interno della fabbrica del 44 di conseguenza questo era sufficiente per essere arrestato poi alla fine ho ceduto ho detto sì andiamo andiamo e quando siamo arrivati in via Popolo vi ricordo tutti e due ci siamo abbracciati e poi abbiamo giocato abbiamo giocato di non dimenticarlo che quella cosa lì non l'avevamo mai dimenticata Piazza dell'Oretto era un punto di snodo di movimento della cittadinanza notevole ecco perché sono stati portati in Piazza Loretto perché sapevano che portandoli lì e fucilandoli lì avrebbero avuto un eco una risonanza in tutta la città e non solo in una città ma anche fuori il problema era politico e quindi hanno hanno minacciato la zona attenzione a quello che fate e a quello che dite perché noi facciamo fare la stessa sfida è quanto sangue quanto dolore per arrivare a questa costituzione dietro a ogni articolo di questa costituzione o giovani voi dovete vedere giovani come voi cittaduti caduti combattendo fucilati impiccati torturati morti di fame nei campi di concentramento morti in Russia morti in Africa morti per le strade di Milano per le strade di Firenze che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta il 25 aprile del 945 il giorno della liberazione la popolazione come dire risorta gridavano uno aveva addirittura il tricolore la guerra è finita la guerra è finita però c'erano ancora qualche gruppo di tedeschi fascisti che combattevano mentre sentivo alla radio che era entrato lungo per Pini in piazza Duomo io ero in casa e non ci potevamo muovere perché era venuto quel partigiano e ci avevano detto non uscite di casa finché non vengo io a dirvelo perché abbiamo i cerchini sopra i tetti io la racconto sempre per dire che era bellissima era bellissima vi dico che era una guardate io adesso ve lo sto raccontando mi si sta coponendo la pelle guardate è una roba che mi emoziona vedere questa città che ho visto in tutti quei mesi lì le bombe le fucilazioni tutto qua tutto quello che c'era di brutto vedere questa città la gente per le strade le bandiere e le finestre c'è stato un grande comizio in piazza Duomo ha parlato un grande che poi divenne presidente della repubblica Pertini era socialista ha fatto un discorso che eravamo là tutti in piazza Duomo ricordandomi tutte queste cose sono scoppiato in un pianto che non vi dico proprio una cosa che mi portavo dietro chissà da quanto ecco per la voglia di piangere felicità essere felici di essere liberi avevamo i quattordici anni compiuti e andavamo verso i quindici non è che anche lì provavi gioia la sensazione della guerra finita l'ho avuta sì ma per me è talmente presente cioè anche chi mi fa questa domanda io non avevo madre non avevo più il padre non è che io fossi felice che la guerra era finita perché non la cosa non sapevo cosa avrei fatto poi e non sapevo neanche con chi sarei stato perché Mussolini partì da lì in macchina verso Dongo no no Dio mio se avanzo seguitemi se mi uccidono vendicatemi e se indietreggio uccidetemi erano momenti ragazzi difficili difficilissimi la gente diffidava l'ho già detto Giorgio Albertazzi che è stato un grande attore lo conoscete tutti è stato processato perché avrebbe fucilato tre partigiani partigiani al processo il giudice le dice lei è accusato di aver ucciso tre partigiani e lui sapete cosa ha risposto signor presidente io ne ho fucilato uno solo e non ne ha fatto niente bisogna capire che l'Italia era stata fascista tutti i quadri tutti i quadri dell'amministrazione pubblica erano fascisti perché lì a Piazza Laureato perché i partigiani li hanno portati lì i partigiani che venivano giù dalla montagna li hanno portati lì i cadavere dei fascisti perché loro mentre erano in montagna hanno saputo anche loro di questo fatto gravissimo sono andati con mio padre io e Sergio perché mio padre ha detto appunto non l'ho mai visto da vivo volevo essere da morto che tipo era e siamo andati con lui lì c'era il distributore di benzina in corso Buenos Aires vicino allo steccato e lì c'erano e lì c'erano appresi i musolini i pietacci e i fascisti e vedevamo la gente attorno che si avvicinava e premeva per dare calci per spurtare i cadaveri per... era una rabbia una rabbia che si può capire è difficile da capire ma si capisce chi l'ha vissuto in quei momenti la capisce le hanno appresi le hanno appresi proprio perché il comandante dei partigiani che erano lì a... che erano... a guardare non hanno resistito il comandante al fatto che la gente quando erano per terra perché prima erano per terra erano per terra sul marciapiede c'era la gente che sfruttava sui morti e dava i calci ai cadaveri e quindi facevano scempio dei cadaveri allora allora adesso basta ha chiamato i partigiani hanno allontanato la gente e adesso dice se volete vederli ve li mostriamo dall'alto e così li hanno appresi quindi non è stato che li hanno appresi perché volevano per sottrarli alla stupidità della gente 25 aprile ci furono quelli ci furono quelli che fuggirono andiamo a prendere quel ore fulgetto andiamo a prendere quell'altro fuggita chi erano poi quelle persone che davano i calci non lo so cioè né io né il mio amico eravamo lì noi eravamo come ripeto come se fossimo in tribuna a guardare giù chissà quanti fascisti c'erano in Piazzale dovretto a gridare contro a dar calci al cadaveri chissà quanti c'erano chi lo sa perché in quei giorni è vero avevo visto diversi con la fascia tricolore che era che la portavano i partigiani in realtà era una faccia che io non avevo mai visto che perché senz'altro c'è sai quando c'è da salvare la pelle c'è anche chi poi si comporta in modo tale di salvarci dalla pelle non si può avere un atteggiamento buonista verso tutto e tutti perché secondo me si diventa dei scemo lini questa è un'opinione personale non è un insegnamento è la mia opinione personale e il mio modo di essere cioè va tenuto sotto controllo il fascismo era un regime violento come tutti i regimi violenti nato dall'ignoranza perché la violenza è figlia dell'ignoranza era più importante lottare e magari soffrire e magari morire per la conquista di un bene comune cioè la libertà, la pace, la democrazia un'Italia dove avremmo potuto vivere una vita migliore oggi non dico che ci sia un regime fascista no per carità c'è una parvenza di democrazia che però in quella che io vedo come una vedo questa coltre se così posso chiamarla di mediocrità una possibile base per l'ignoranza e per la violenza mi auguro di no mi auguro che l'Italia abbia capito che sia maturata che qualcosa soprattutto le giovani generazioni che tragano dalla loro difficoltà di vivere il coraggio per cambiare perché è ancora molta la strada da fare è molto molto lunga una delle ultime lettere forse l'ultima è il suo testamento quando dice alla mamma di non preoccuparsi che lui sarebbe stato sempre vicino a noi vicino a lei e l'avrebbe aiutata perché lui voleva vedere i suoi figli crescere studiare affacciarsi alla vita e che quello che lui aveva fatto l'aveva fatto per noi e che cosa non sarebbe stato ancora pronto a dare per la libertà dei suoi figli vedi Nini tu me lo devi promettere ma di cuore che starai tranquilla più che puoi ricordi quando andai in Germania sono ritornato e la seconda sì, la seconda ritornerò ancora lo sento, lo voglio per te, per i miei cari figli sì Nini abbi fiducia nelle mie parole per di più abbi pazienza che la pazienza è una virtù che hanno solo le anime elette e grandi e tu adorata Nini lo sei sempre stata il tuo guido ti sarà sempre vicino col pensiero pregherò anche sì Nini pregherò per la tua salute per i miei cari figli affinché il Signore li conservi sempre sani e vi salvi dai pericoli per quel tempo che io sarò assente da voi così anche voi pregherete per me e sarà solo il vostro pensiero che metterà l'alto il morale e il cuore non è nel mio accordo no, io dovevo fare qualcosa non potevo stare a guardare assolutamente non non è proprio nel mio temperamento io mi infogno sempre in qualche cosa piuttosto che niente me le vado a cercare le cose no, no non è proprio nel mio carattere io comunque se anche non ci fosse stata la formazione giustizia e libertà io comunque sarei andata con i Garibaldini io comunque sarei stata partigiana io comunque avrei combattuto non ti so dire come con quali risultati non posso saperlo allora non potevo saperlo lo so adesso però comunque sarei sì, sì, fa parte del mio carattere del mio temperamento mio nipote più piccolo che ho che viene qui sempre che ha undici anni adesso lui di tanto viene qui guarda io non voglio insistere molto a raccontargli delle cose però insomma lui sente qua dei discorsi mi dice ma nonno ma tu sei stato un avventuriero avventuriero ci ho pensato io questa cosa avventuriero però avevo pensato che aveva ragione in fondo la nostra è stata un'avventura la resistenza era un'avventura quindi quando vi ho detto che questa è una carta morta no, non è una carta morta questo è un testamento un testamento di centomila morti se voi volete andare in pettegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione andate nelle montagne dove cadero i partigiani nelle carceri dove furono i prigionari nei campi dove furono i piccani dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità andate lì o giovani col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione la nostra costituzione è una scottura inizia la nostra costituzione sono un'azienda Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.